Sosa di testa, di piede, di tutto Ecco qua, R&D! Ave Udin! Bene, allora, abbiamo qui un giocatore dell'Udinese Allora, no, una mamma che gli ha fatto la maglia dell'Udinese Allora, come ti chiami? Paolo Allora Paolo, senti, cosa ti sembra l'Udinese quest'anno? È una gran squadra, solo che avrebbe bisogno ancora di maturare ancora un po' Sono tutti molto giovani, va detto Sono giovani ma forti Un giocatore che vede rivelazione di questo campionato? Beh, amoroso, senz'altro E poi anche Sosa Abbiamo un altro qua tifoso Senti, cosa...